Io sul Lito ha delle caratteristiche che piacciono molto a un allenatore che già hai avuto, bell'arte. Sì, lo conosco bene, lui mi conosce bene, lui è il che mi ha portato qua in Italia, a Rieti. Con lui si lavora bene, perché tutti gli esercizi, la forma di giugare, il sistema per yoga, per giugatori come io, si va benissimo. Quindi speriamo di fare una buona stazione, arrivare in finale e vincere qualche trofeo, soprattutto lo Scudetto, che lo supporta alla Champions. Che sede è l'Acqua e Sapone come società? Per me è la società più forte dell'Italia, sicuramente 100% è la più forte. Doveva arrivare l'anno scorso, ma noi abbiamo trovato la forma, la maniera di arrivare, alla fine è andato a Napoli. La mia voglia è di giugare qua con l'Acqua e Sapone, con la tifoseria, con i giugatori che c'è, Murillo, Jonas, Calderoli. Quindi è un gruppo che è di tanti anni insieme e per me è più facile giugare con loro che andare in un'altra squadra. Però soprattutto è andato qua per la società che si ha portato con me nel primo giorno, che mi ha chiamato veramente impressionante, conmigo e con mia famiglia. E questo è lo che mi ha portato qua. Coco Smith, capitano, ti confermo io, gli ho dico io a Palusci. Allora, Coco, quarto anno, inizio del quarto anno, non te ne vuoi andare a quest'Ambruzzo? Se qua mi trovo benissimo, sono una società che sempre vuole crescere, vuole crescere molto. Ogni anno cerca di crescere più e sono felicissimo di iniziare una nuova stagione e speriamo che vada meglio dell'anno scorso. La squadra è stata un po' cambiata come tutti gli anni, però gli innesti che hanno fatto sono giocatori di molta qualità. Speriamo che ci conosciamo in questi primi allenamenti e facciamo una bella preparazione per iniziare bene il campeonato. Abbiamo fatto bene l'anno scorso, speriamo di migliorare anche quest'anno.